Facciamo anche in serie perché Valeria Cano in realtà abbiamo fino a ora scherzato ma ci deve spiegare bene come nasce tutta un'idea, un progetto, una comunicazione visiva di questo elemento che è la famiglia solare. Valeria Cano è difficile capire da dove proviene effettivamente, noi ce lo siamo chiesti, vero Andrea? Si, si può porto tesina. Si, ma infatti, allora, parlaci Valeria, ti arrivi da? Allora, io arrivo dalla Sardegna, precisamente da Pattada, che è un paese, un vero paese sardo, quindi sono un amante del mare e del sole. Diciamo che in squadra con un gruppo di ragazzi di Firenze, l'Officina Grafica e assieme a Sergio Zingarelli abbiamo cercato di comunicare a questo Vinitaly quello che era la nostra azienda, quindi Rocca delle Mazzie. E appunto la famiglia solare e la headline della campagna parte con la famiglia solare, dove la famiglia, diciamo, il fulcro da cui tutto ha origine ed evoluzione. E intorno alla famiglia solare, che sarebbe Rocca delle Macie rappresentata come il sole, ruotano tutti i suoi pianeti vini in un equilibrio, diciamo, di forze gravitazionali, così come i pianeti ruotano intorno al sole. Ti spieghiamo anche l'interno, perché noi tutte le volte, cioè, dobbiamo sempre intuire, ma in realtà facciamo capire, dai. Il simbolo interno? Eh, Firenze Caputmundi, no, anzi, lo vedo. No, cos'è? Allora, io la vedo così. Se l'ho detto facciamocelo spiegare. Beh, vai, vai. Dici cos'è l'immetto. No, allora, questo è proprio il logo simbolo di Rocca delle Macie, è un po' una stilizzazione comunque del gallo nero, dove noi siamo in realtà, proprio nel cuore dei pianeti classico, ed è il logo di Rocca delle Macie fin dalla sua nascita. E quindi abbiamo pensato di utilizzarlo come simbolo del sole che sta al centro del sistema planetario, del sistema solare. E tutte le, appunto, la campagna, questa famiglia solare, la doppia accezione, la famiglia Zingarelli, la famiglia Rocca delle Macie, quindi noi, i vini di Rocca delle Macie, con questa connotazione aggiuntiva di solarità, quindi di positività, di voglia di fare, che è un po' quello che caratterizza la nostra nascita. E senti, in questo universo il Cannonau però non c'è. Grazie.